Buongiorno a tutti da Paolo D'Ambra e bentornati a un'altra puntata di Turbo Daily. Oggi come ogni venerdì andremo a vedere quali sono le operazioni in portafoglia, andremo a fare il recap settimanale, ma prima di questo bisogna dire che ovviamente tutti quanti ce ne siamo accorti ieri del crollo importante che ha subito il Nasdaq circa del 2% sulla scena delle parole di Powell, comunque delle parole che infondono un pochettino di timore in merito a una possibile riapertura delle attività commerciali che di per sé porterebbe a un repentino aumento dell'inflazione. Questo ovviamente porta a un aumento dei rendimenti su titoli di Stato e quindi man mano andare a drenare liquidità dal mercato azionario al mercato obbligazionario. Ovviamente chi ne subirà le conseguenze è soprattutto il Nasdaq, quindi i titoli high tech. Oggi ci focalizzeremo infatti proprio sul Nasdaq, già in precedenza abbiamo fatto, abbiamo condiviso un'operazione, una strategia ribassista sul Nasdaq, oggi cercheremo di andarla a rivedere su diversi livelli operativi. Prima di questo andiamo a vedere subito quali sono le operazioni che abbiamo ancora in portafoglio. Quindi andiamo sulla piattaforma operativa, come sempre sulla gamba sinistra abbiamo tutte le nostre operazioni ribassiste, quindi siamo ribassisti prevalentemente sull'Europa, quindi Futsimib e DAX e infine sul titolo ENI. Per quanto riguarda invece la gamba rialzista abbiamo due posizioni long sull'oro, attenderemo quindi un pullback dei livelli attuali e infine come abbiamo detto anche l'ultima volta abbiamo cercato di riequilibrare il portafoglio con un trade a rialzo sull'Eurostox e infine siamo a rialzo su Amazon. Solitamente in queste fasi di mercato cerchiamo sempre di selezionare anche quelli che sono i titoli che anche per una strategia di lungo termine possono andare anche bene per le nostre strategie. Ad ogni modo oggi come ho detto prima proponiamo un trade ribassista sul Nasdaq. Direi di spostarci subito sulla piattaforma, sul grafico per vedere quali sono i nostri livelli operativi. Ovviamente dal punto di vista di una strategia di lungo periodo vediamo che il Nasdaq è comunque rialzista. Quello a cui stiamo assistendo nell'ultimo periodo è in realtà un verificarsi di un pattern ribassista. A mio avviso questo che si è andato a formare nelle ultime settimane è un test spalla che in realtà già negli ultimi giorni ha dato tra virgolette i suoi frutti nel senso che è andato a violare la nostra neckline posizionata intorno all'area 12.790-12.710 a rottura. Sembra che l'indice sia proiettato verso il nostro supporto dinamico. Ragion per cui oggi andiamo a fissare il nostro livello di ingresso a 12.800, leggermente sopra i massimi delle giornate precedenti. Ovviamente a mio avviso si potrebbe anche iniziare, ci si potrebbe posizionare in realtà anche 100 punti sotto quindi a 12.700 proprio al livello della nostra neckline, quindi sfruttando eventualmente un possibile pullback del Nasdaq fino appunto al livello suddetto. Uno stop loss a 13.400 punti, quindi sempre sopra i massimi precedenti, sopra le medie mobili a 20.50 per motivi ovviamente precauzionali. Infine un target posizionato a 11.500. ricordiamo che questo target è stato trovato semplicemente con una trasposizione dai massimi del Nasdaq fino alla nostra neckline, quindi riproiettando la stessa distanza dalla rottura del supporto dinamico ho infine trovato il nostro target che dovrebbe essere appunto attorno a 11.500. Andiamo sul sito di BIMP Paribas per vedere qual è il certificato che ho scelto per voi. è un certificato che come sempre ha una leva non molto alta, in questo caso è sotto la media degli altri certificati proposti da BIMP Paribas, quindi con una leva del 6.82. Il certificato termina col codice NL2, ha uno strike, ha un knockout a 14.500 punti e infine una distanza di circa il 17%. Al momento il prezzo di denaro quota 17.97 euro, torniamo un'altra volta sulla piattaforma operativa per eseguire il nostro trade. Ho impostato un prezzo di ordine a 15.30 euro per 65 pezzi, andiamo a eseguire il nostro trade e andiamo a vedere subito dov'è posizionato. Ok, facciamo subito un breve recap dell'operazione odierna, il sottostante è il Nasdaq per una strategia ribassista, un ingresso a 12.800, stop loss a 13.400, infine un target a 11.500. Per oggi è tutto, come sempre io vi auguro buon weekend e buon trading a tutti. Grazie a tutti.